Fratelli e sorelle nel Signore, oggi voglio parlarvi degli anticristi e anche dell'anticristo per eccellenza. Quindi ci sono sia gli anticristi che anche, in modo particolare, che stiamo aspettando anche la sua venuta, anche la sua manifestazione, anche dell'anticristo. Perché è importante? Perché volevo parlarvi di questo? Vi ho già parlato dei segni che sono importanti prima della venuta del Signore. Perché quando ci sono eventi particolari, eventi disastrosi particolari, partono tutti quei predicatori che dicono che sta per finire il mondo, spaventano la gente, sta per venire l'anticristo, sta per tornare il Signore. E' vero, il Signore è vicino, come anche dicono le scritture, però che sia imminente il suo ritorno, ancora questo non è così. Perché? Perché la scrittura, e ne abbiamo parlato già un'altra volta in un altro messaggio, perché la scrittura ci dice che prima della venuta del nostro Signore Gesù Cristo ci devono manifestarsi dei segni, uno di questi segni è l'apostasia, mentre l'altro segno è la manifestazione dell'anticristo, di cui parleremo oggi. Quindi, prima di poter dire di spaventare le persone, perché poi le spaventano, ma le spaventano, se le spaventiamo dicendo ravvediti e credi nell'Evangelo perché altrimenti sarai gettata all'inferno, è una cosa, perché è vero, è così. Ma spaventarli con qualcosa che invece non è vero non va bene, capite? Quindi non dobbiamo spaventare a ogni terremoto, con una pestilenza, con una carestia, con un segno dal cielo, con una meteorite che sta... Perché poi i giornali scrivono, scrivono, sta arrivando un meteorite, colpirà la Terra, chissà che disastri farà, sta arrivando la fine del mondo. Insomma, tutte queste storie gonfiano i giornali e mettono così in crisi molte persone che ci credono e si spaventano. Allora, noi credenti invece non dobbiamo essere di quelli che ad ogni voce si spaventano, ogni voce che arriva, ogni voce che presenta un certo pericolo poi si spaventa. Noi credenti dobbiamo guardare alla parola, perché la parola è una lampada al nostro piede, è una luce sul nostro sentiero. Quindi se noi conosciamo la parola stiamo tranquilli, perché osserviamo, è vero che osserviamo quello che succede nell'attualità, però è vero che la osserviamo attraverso la parola, quindi cerchiamo di capire bene al punto in cui siamo. Quindi se non è imminente il ritorno del Signore Gesù Cristo, non possiamo dirlo, capite? Perché non si sono avverati segni, perché se no così imbrogliamo la gente, li spaventiamo con un messaggio falso. Adesso, in questi tempi, il ritorno del Signore non è imminente. Anche per quanto riguarda l'anticristo, non abbiamo dei segni che vedono che stia, diciamo, per manifestarsi da un momento all'altro. Certamente vediamo dei segni preparatori, questo sì, vediamo dei segni preparatori che vanno verso questa manifestazione dell'anticristo. Però per ora dobbiamo stare tranquilli. Io vi porto questo messaggio più che altro per farvi stare tranquilli, perché dobbiamo individuare bene le cose. Cioè, quando ci sarà da preoccuparsi, bisogna preoccuparsi. Ma quando non c'è bisogno di preoccuparsi, allora è inutile agitarsi per nulla, capite? Quindi ogni cosa va vista al suo tempo, nella maniera giusta e al suo tempo. Quando si parla dell'anticristo, poi ci sono quelli che intervengono e dicono giustamente, perché è scritto anche quello, «Ah, ma ci sono già gli anticristi in mezzo a noi». Ecco, questa è un'altra distinzione che dobbiamo fare. C'è l'anticristo che deve venire, che deve fare determinate cose, di cui oggi vedremo alcune cose. Ma ci sono anche gli anticristi, ci sono stati e ci saranno sempre. Ora, leggiamo qualche passaggio per individuare questi anticristi. Che oggi tra questi anticristi ci sono anche i massoni. Quindi immaginatevi voi com'è importante sapere che ci sono in mezzo a noi, in mezzo alla Chiesa anche, sono in mezzo alla Chiesa ma anche fuori dalla Chiesa gli anticristi. Tra questi anticristi ci sono i massoni, capite? Quindi ecco perché ci dobbiamo stare alla larga dai massoni. Perché sono degli anticristi. Adesso noi leggiamo qualche passaggio della scrittura per capire cosa sono gli anticristi. Quindi andiamo a leggere nella prima epistola di Giovanni, al capitolo 2, dal versetto 18, leggiamo queste parole. Figlioletti, è l'ultima ora e come avete udito, che l'anticristo deve venire? Fin da ora sono sorti molti anticristi. Onde conosciamo che è l'ultima ora? Sono usciti di fra noi ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi. Ma sono usciti affinché fossero manifestati e si vedesse che non tutti sono dei nostri. Quindi qui Giovanni annuncia che, vedete, annuncia sia che, come avete udito, perché fu già insegnato, fu insegnato, gli apostoli insegnavano che doveva venire l'anticristo, lo insegnavano. Però qui Giovanni dice che fin da ora sono sorti molti anticristi. Quindi c'è da distinguere l'anticristo che deve venire dagli anticristi invece che sono già operanti. Capite? Quindi non è la stessa cosa. Non è che io dicendo che sono già operanti gli anticristi, perché praticamente l'anticristo, quello presentato dalle scritture, non verrà. No, ci sono già operanti gli anticristi, ma dovrà venire un particolare, l'anticristo, chiamiamolo così, per eccellenza, cioè il capo, il più importante degli anticristi. Ecco, l'anticristo per eccellenza. Però ci sono già gli anticristi, va bene? Quindi dobbiamo individuarli. Per capire che cosa sono gli anticristi, al versetto 22, sempre della prima epistola, sta scritto Chi? Chi è il mendace? Cioè, bugiardo, no? Chi è il mendace? Se non colui che nega che Gesù è il Cristo. Quindi una caratteristica di questi anticristi è che non credono che Gesù di Nazareth, che conosciamo noi come scritto nella parola di Dio, sia il Cristo stabilito da Dio. Un'altra caratteristica la leggiamo invece nella seconda epistola di Giovanni, lo leggiamo al versetto 7. Quindi seconda epistola di Giovanni al versetto 7. «Poiché molti seduttori sono usciti per il mondo i quali non confessano Gesù Cristo esser venuto in carne». Quello è il seduttore e l'anticristo. Vedete? Qui definisce ancora meglio Giovanni che cosa caratterizza un anticristo. Un anticristo è quello che non crede che Gesù sia Dio. Praticamente cosa crediamo noi cristiani? Come insegna la parola? Che Gesù è sempre stato Dio. È Dio perché Dio non ha né inizio né fine temporalmente. Non è stato creato. Cosa ha fatto Gesù? Si è fatto carne simile a nostra. È venuto sulla terra a vivere per un certo periodo di tempo come vivono gli uomini. Né più né meno. Capite? Ma chi era quel Gesù? È Dio! E cosa ha fatto quel Gesù? Che è stato unto, è stato scelto dal Padre, lo ha mandato sulla terra. Dopo che lo ha mandato sulla terra, Gesù è morto, è morto sulla croce, ha sofferto, è morto per i nostri peccati e il terzo giorno è risuscitato. Quindi Dio, che si è fatto carne, è vissuto con carne simile alla nostra e è morto ed è il terzo giorno è risuscitato. ha sparso il suo sangue per la remissione dei nostri peccati. Quindi questo è il centro dell'Evangelo, è il centro della buona notizia, della buona novella, della buona novella della salvezza. Capite? Tutto si incentra su Gesù Cristo e quello che Lui ha fatto. Va bene? Quindi gli anticristo che si oppongono, che parlano contro Cristo, che sono contro Cristo, non accettano questo, non accettano che Dio si sia fatto carne e che sia morto sulla croce. Non lo accettano. Questi sono degli anticristi e guardate bene che tra questi ci sono i massoni. Ci sono i massoni che sono tra questi, che non credono questo. Credono, i massoni, come tanti altri, credono che ci sia esistito un uomo di nome Gesù, un uomo, solamente un uomo, che abbia insegnato delle cose buone per la terra, come hanno insegnato cose buone tanti altri uomini, maestri di vita, no? Come tanti altri che sono vissuti sulla terra. Quindi mettono sullo stesso piano il Gesù, quel Gesù che noi leggiamo nelle Sacre Scritture, che per noi è Dio, loro lo mettono, lo prendono come un uomo qualunque e lo considerano come uno tra i tanti che ha detto parole buone, amorevoli. Ecco qua. Come una sorta di predicatore normale che dice cose buone, piacevoli a chi li ascolta, che diffonde l'amore. Invece non è così, perché Gesù è l'unica via della salvezza. All'infuori di Lui non c'è salvezza. Quindi tutti gli altri, seppure hanno dato dei messaggi diciamo a favore dell'umanità, a favore dell'uomo, oppure non sono messaggi che salvano. Capite? Quindi contro questo tipo di messaggio parlano gli anticristi, si oppongono, si oppongono a Cristo, parlano contro Cristo, vogliono annullare la figura e l'opera che Cristo Gesù ha compiuto. Ora, se l'anticristo fa quest'opera di nascondere, di annullare, di distruggere l'opera di Gesù, noi al contrario dobbiamo presentarla. Ecco perché si batte molto sull'Evangelo, si batte molto sull'annunziare l'Evangelo di continuo, perché ormai ci sono gli anticristi che vogliono nasconderlo. E noi invece da cristiani dobbiamo tirarlo fuori, dobbiamo confessarlo, pubblicarlo fuori a tutti, a tutti, possibilmente a tutte le genti del mondo. Quindi vedete, ci sono gli anticristi e sono già operanti, certo, ma questi tipi di anticristi, tra cui ci potrà essere, ci sarà sicuramente, anche il nostro anticristo, il nostro oggetto del messaggio di oggi, che è un particolare tipo di anticristo di cui la scrittura scrive, la scrittura riporta, riportano alcuni fatti che oggi noi prendiamo in considerazione i fatti che riguardano questo anticristo. Quindi andiamo a leggere ciò che riguarda questo particolare tipo di anticristo, capite? che si pone al posto di Cristo addirittura, dirà che Egli è Dio, come è scritto in Tessalonicesi, Egli dirà che Dio si siederà nel Tempio e dirà che Egli è Dio nel Tempio che deve essere ancora costruito che è il Tempio di Gerusalemme. Deve essere ancora costruito, quindi anche questo è un segnale che non siamo alla fine, non sta avvenendo ancora, non stanno avvenendo quelle cose, quegli eventi non si stanno verificando per poter dire che veramente stiamo giungendo, stiamo giungendo alla fine, che stiamo giungendo, che ci stiamo avvicinando molto al ritorno del Signore o all'avvento dell'anticristo. Ecco, non stanno ancora, non ci siamo ancora, non so quanto passerà, però al momento attuale non ci siamo ancora all'avvenimento di questi fatti. Ora passiamo a parlare dell'anticristo. Perché? Perché in Tessalonicesi, noi, in seconda Tessalonicesi, al capitolo 2, dal versetto 5, leggiamo, non vi ricordate quando ero ancora presso di voi io vi dicevo queste cose e ora voi sapete quel che lo ritiene ondegli sia manifestato a suo tempo. Quindi la manifestazione dell'anticristo che viene chiamato anche l'avversario, figliolo della perdizione, l'uomo del peccato, la bestia, in Apocalisse viene chiamata la bestia. La bestia non come forma, come genere, come animale, ma la bestia come spiritualmente, capite? Che non riceve ragione, che non accetta ragione, che non accetta, diciamo, le cose spirituali. In questo senso viene chiamato in quella maniera. Quindi la parola bestia non ci deve ingannare, non dobbiamo pensare a un animale formato in un certo modo, capite? Sarà una persona, sia la bestia che il falso profeta, capite? Perché a fianco dell'anticristo ci sarà un altro uomo che agirà a favore dell'anticristo, che viene chiamato appunto il falso profeta. quindi abbiamo visto in Tessalonici che c'è qualcosa che lo trattiene, cioè dal manifestarsi, è certo, perché ogni cosa deve avvenire al tempo che Dio ha stabilito. Le cose non avvengono per caso, le cose avvengono quando Dio lo stabilisce, capite? quando Dio stabilisce che le cose avvengano devono avvenire e le cose che Dio stabilisce che avvengano avvengono esattamente quando Lui vuole, al momento da Lui stabilito. Quando sarà il momento? Perché la scrittura adesso andiamo a leggere in Apocalisse. Prendete il libro dell'Apocalisse, sfogliate la Bibbia e arrivate fino al capitolo dove si parla, al capitolo 12, dove si parla di determinati eventi. Qui occorre una premessa. Vero è che diciamo il diavolo, adesso parliamo di Satana, il diavolo, il nemico, il dragone, il serpente antico. Le scritture ci insegnano che attualmente come anche in passato Satana ha accesso ai cieli. Cioè Satana perché la scrittura ci dice ad esempio leggendo i primi versetti del primo capitolo di Giobbe vediamo che Dio fa delle riunioni in cielo con i suoi angeli e a queste riunioni si presenta anche Satana. Cosa comprendiamo tra le altre cose? Che Satana si presenta in cielo, nei cieli e si presenta anche davanti a Dio che Satana già lo conosce Dio. Ha questa possibilità. Attualmente è in passato ha questa possibilità. Ma la scrittura ci dice che in un certo momento che deve ancora venire questo momento cosa avverrà? Avverrà nei cieli qualcosa di particolare che adesso andiamo a leggere al capitolo 12 in Apocalisse dal versetto 7 E vi fu battaglia in cielo Michele e i suoi angeli combatterono col dragone e il dragone e i suoi angeli combatterono ma non vinsero e il luogo loro non fu più trovato nel cielo e il gran dragone il serpente antico che è chiamato diavolo e Satana il seduttore di tutto il mondo fu gettato giù fu gettato sulla terra e con lui furono gettati gli angeli suoi e io udì una gran voce nel cielo che diceva ora è venuta la salvezza e la potenza e il regno dell'Idio nostro e la potestà del suo Cristo perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli che li accusava dinanzi all'Idio nostro giorno e notte ma essi l'hanno vinto a cagione del sangue dell'agnello e a cagione della parola della loro testimonianza e non hanno amata la loro vita anzi l'hanno esposta alla morte perciò rallegratevi o cieli e voi che abitate in essi guai a voi o terra o mare perché il diavolo è disceso a voi con gran furore sapendo di non avere che breve tempo e quando il dragone si vide gettato sulla terra perseguitò la donna che aveva partorito il figliolo maschio ma alla donna furono date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto nel suo luogo dove è nutrita un tempo dei tempi e la metà di un tempo lungi dalla presenza del serpente e il serpente gettò dalla sua bocca dietro la donna dell'acqua agguisa di fiume per farla portar via dalla fiumana ma la terra soccorse la donna e la terra aprì la sua bocca e inghiottì il fiume che il dragone aveva gettato fuori dalla propria bocca e il dragone si adirò contro la donna e andò a far guerra col rimanente della progenie d'essa che serva i comandamenti di Dio e ritiene la testimonianza di Gesù e si fermò sulla riva del mare quindi come vedete avverrà deve avvenire questo evento alcuni dicono che è già avvenuto quando Gesù è morto sulla croce ma non è così perché per questo evento deve ancora accadere cioè Satana sarà gettato ci sarà una battaglia in cielo Satana sarà gettato sulla terra perché perderà lui e i suoi angeli quegli angeli che lui avrà sedotto che lo seguiranno lui e i suoi angeli saranno scaraventati nella terra non potranno più avere accesso ai cieli verrà quel momento capite quando verrà quel momento quando verrà quel momento succederà come poi leggiamo adesso al capitolo 13 continuando in Apocalisse verrà che Satana darà il potere la potenza a un determinato uomo per fare la sua volontà per scagliarsi per scagliarsi soprattutto in maniera particolare contro la Chiesa perché chi odia in modo particolare Satana il nostro nemico chi è che odia odia in modo particolare i Santi perché i Santi hanno accesso al Paradiso di Dio lui questo accesso non ce l'ha più cioè non ce l'ha più non sarà più non avrà accesso al Paradiso di Dio adesso ha accesso ancora ai cieli si presenta davanti a Dio ma verrà il momento in cui lui non avrà neanche più l'accesso ai cieli e deve rimanere qui sulla terra e quando sarà scaraventato sulla terra sarà così infuriato che manifesterà la sua malvagità da tutte le parti in modo particolare avverranno determinate cose con cui con cui darà quel potere a una persona che metterà perseguiterà la Chiesa quei giorni lì saranno giorni particolari in cui ci possono essere anche degli eventi distruttivi delle piaghe che Dio manderà sulla terra le piaghe che Dio manderà contro la terra non colpiranno i santi capite cioè le piaghe che Dio manderà contro i malvaggi non colpiscono i santi l'unica cosa però l'unica cosa che può colpirli che Dio permette è che l'anticristo perseguiti la Chiesa e ne faccia morire molti ecco quindi la Chiesa subirà una persecuzione anche mortale seguirà una persecuzione però la Chiesa non sarà colpita dalle piaghe che Dio lancerà contro la terra quindi abbiamo visto un elemento scatenante quindi l'elemento che deve avvenire per far venire l'anticristo chiamato anche la bestia per far venire la bestia abbiamo bisogno che si verifichi di questa battaglia in cielo quindi quando si verificherà questa battaglia in cielo Satana sarà scaraventato sulla terra allora e non avrà più accesso ai cieli cioè non potrà più andare basta per lui sarà finito perché perché le cose che Dio ha stabilito si devono adempiere e Dio ha stabilito che si adempiano in questa maniera capite si devono adempiere come Dio ha stabilito esattamente come Dio ha stabilito ora leggiamo ora leggiamo al capitolo 13 di Apocalisse qualcosa che riguarda la bestia perché abbiamo visto che dopo la battaglia Satana sarà scaraventato sulla terra cosa succederà capitolo 13 di Apocalisse al versetto 1 e vidi salir dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste e sulle corna dieci diademi e sulle teste nomi di bestemmia e la bestia che io vidi era simile a un leopardo e i suoi piedi erano come di orso e la sua bocca come bocca di leone e il dragone le diede la propria potenza e il proprio trono e grande potestà vedete quindi questo questa bestia viene raffigurata in questa maniera riceverà molta potenza molta potenza da parte di Satana capite e io vidi una delle sue teste come ferita a morte e la sua piaga mortale fu sanata e tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia e adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia e adorarono la bestia dicendo chi è simile alla bestia e chi può guerreggiare con lei e le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie e le fu data potestà di agire per 42 mesi qui la scrittura ci dice tutto quello che gli sarà dato avverranno dei fatti va bene io non voglio spiegare esattamente cosa siano perché in questo momento non lo so cosa siano i corni come possiamo interpretare ogni singolo elemento però una cosa è sicura che verrà questa bestia succederanno determinate cose questa bestia e anche il dragone che aveva dato autorità alla bestia saranno adorati quindi noi cosa comprendiamo di questo che per quanto riguarda l'adorazione quello che poi già sappiamo noi dobbiamo adorare solo il nostro signore Gesù Cristo e anche il padre non dobbiamo adorare nulla che abbia una forma di statua che sia diverso da quello che ci presentano le scritture se no si rischia se non conosciamo le scritture non sappiamo chi dobbiamo servire chi dobbiamo adorare si rischia di se uno non lo sa rischia di adorare qualcosa che magari fa dei segni dei prodigi bugiardi però non è il Cristo lui può darsi che si presenterà come il Cristo egli dirà in Tessalonicese abbiamo detto che egli si presenterà e dirà che egli io sono Dio vorrà perché vuole essere adorato capite ma Satana da Gesù che cosa pretendeva anche da Gesù che lui lo adorasse capite quindi quello che cerca Satana è di essere adorato e con con la bestia riuscirà ad essere adorato da molte persone noi queste cose le dobbiamo sapere perché dobbiamo stare attenti se ci mettiamo ad adorare qualcuno che si presenta e dice io sono Dio io sono il Cristo capite dobbiamo fare molta attenzione non dobbiamo cadere in questa trappola ma magari noi no che conosciamo ma ora dobbiamo capire bene ricordarcele bene queste cose e trasmetterle agli altri affinché tutti il più possibile tutti i credenti lo sappiano perché purtroppo abbiamo anche una certa parte di credenti che queste cose non le sanno non gli viene insegnato e noi chi le capisce ha quest'obbligo di insegnarle a loro volta di trasmetterle a tutti i fratelli affinché quando si verificheranno queste cose loro si ricordino e si ricordino di non farsi ingannare di adorare solo Gesù Cristo solo il Padre e non anche altri come la bestia e anche il dragone che gli ha dato l'autorità capite questa autorità questo diciamo questo potere di agire la bestia per quanto tempo la scrittura stabilisce qui abbiamo visto 42 mesi che sono 3 anni e mezzo quindi dal punto di vista temporale l'autorità quello che la bestia potrà fare è limitato a 3 anni e mezzo capite 3 anni e mezzo quindi quando noi ecco quando ci sarà sarà riconosciuta la bestia siccome sappiamo anche che la bestia sarà distrutta dal ritorno del Signore nostro Gesù Cristo è chiaro che è chiaro che dal da che ha iniziato possiamo dire che il ritorno del Signore è vicino ci sarà già il Tempio ci sarà già la ci saranno già diciamo avvenimenti che noi cominciamo a riconoscere quindi se ci sarà l'Empio se ci sarà la bestia l'anticristo operante se ci sarà già l'anticristo è chiaro che sapendo che il suo regno durerà la sua autorità durerà 3 anni e mezzo qualche calcolo quando sarà ce lo possiamo fare no? a chi toccherà si faranno i suoi calcoli quindi quanto si potrà resistere alla persecuzione dell'anticristo? beh la persecuzione cesserà il ritorno del Signore quindi saranno 3 anni e mezzo di sofferenza se uno riesce a sopravvivere alla persecuzione in quel periodo poi ci sarà il ritorno del Signore però quando ci saranno queste cose si potranno fare dei calcoli capite? perché perché alla fine come anche scritto non è che tu determinerai esattamente il giorno del ritorno del Signore però ti potrai avvicinarci e ti fai dei calcoli e comunque puoi dire che nel giro di un po' di tempo il Signore tornerà cosa che adesso attenzione adesso non puoi dire che il ritorno del Signore è imminente non puoi dire che sta tornando perché non ci sono gli elementi e non ci sono i segni quindi quindi l'anticristo verrà per il potere che gli sarà dato dal gli sarà dato dal diavolo continuiamo dal versetto 6 13 6 di Apocalisse ed essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio per bestemmiare il suo nome e il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo e le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli e le fu data potestà sopra ogni tribù e popolo e lingua e nazione e tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato l'adoreranno quindi vedete qui cosa ci dice riguardo riguardo l'anticristo abbiamo già detto anche che gli sarà dato di far guerra ai santi e di vincerli vedete qui da una parte i santi non saranno colpiti dalle piaghe che Dio manderà sulla terra però saranno soggetti alla perseguzione dell'anticristo va bene perché gli è stato dato e Dio lo ha stabilito gli è dato che all'anticristo di fare guerra ai santi e di vincerli poi ancora altre cose che vediamo che riguarderanno l'anticristo è che le sarà dato potestà sopra ogni tribù popolo lingua e nazione quindi è da qui che noi diciamo da qui da altri passi che diciamo che la potestà dell'anticristo sarà sopra tutti i popoli mondiali del mondo ecco perché giustamente considerando quello che sta succedendo attualmente cioè che vogliono fare un nuovo ordine mondiale tutto va verso il concentrare il potere sopra una persona soltanto capite sopra un poche persone che governeranno poi tutto il mondo e questo si avvicina a quello che le scritture dicono cioè di concentrare il potere sopra la bestia capite ecco perché alcune cose vediamo che vanno verso questa direzione cioè verso la direzione di di che una persona sola che poche persone una persona sola ricevano un'autorità particolare per governare tutta tutta la terra tutti i popoli della terra un'altra cosa che dice qui la scrittura è che tutti gli abitanti della terra i cui nomi guardate bene i cui nomi non sono scritti nel libro della vita non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato lo adoreranno quindi guardate bene quando quando verrà l'anticristo quando ci sarà questa bestia praticamente una una parte importante di questa bestia sarà la sua adorazione cioè tutti tutti gli uomini che non sono scritti nel libro della vita lo adoreranno quindi ci tiene in modo particolare sia il diavolo che anche anche la bestia anche l'anticristo ad essere adorato quindi noi dobbiamo stare concentrati su questo cioè dobbiamo capire e dobbiamo combattere questo aspetto che bisogna adorare solo il Dio e solo a Dio rendere il culto e questo già lo diciamo ai cattolici già lo e lo dobbiamo dire a tutti quelli che rendono un culto che però non viene reso a Dio viene reso il culto va reso solamente a Dio e questo è un punto importante che varrà ancora di più nel momento in cui nel momento in cui verrà l'anticristo si manifesterà cercherà e governerà la terra e vorrà essere adorato però i credenti cristiani quelli che sono scritti nel libro della vita quelli che saranno salvati quelli lì non adoreranno la bestia ma questo noi lo dobbiamo sapere è importante saperlo perché noi dobbiamo già da adesso dire e pensare noi non adoriamo nessun altro all'infuori di Gesù Cristo che è il figliolo di Dio e il padre la scrittura non ci permette di adorare nessun altro capite chiunque esso sia per qualsiasi motivo esso venga quindi dobbiamo stare concentrati su questo non dobbiamo farci ingannare altrimenti se uno si adora la bestia va in perdizione capite quindi è importante questi sono punti non è che rivelano i momenti in cui l'anticristo si manifesterà però sono cose importanti perché quando si manifesterà quando si manifesterà quando certe cose avverranno sarà importante ricordarsi le cose che noi dobbiamo fare quelle che farà lui quelle cose che sono importanti che bisogna fare o quelle importanti che non bisogna fare tra cui adorare la bestia capite non è che noi ci dobbiamo inginocchiare davanti a nessuna statua continuando 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 cioè praticamente al versetto 11 sempre del capitolo 13 di Apocalisse qui parla dell'altra bestia che è un altro nome con cui la bestia che sale dalla terra cioè che è il falso profeta quindi all'anticristo si associa Satana associa anche un'altra persona chiamato il falso profeta di cui parla dal versetto 11 e leggiamo adesso i passi che riguardano il compagno diciamo dell'anticristo 13 11 di Apocalisse poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra ed aveva due corna come quelle di un agnello ma parlava come un dragone ed esercitava tutta la potestà della prima bestia alla sua presenza e faceva sì che la terra e quelli che abitano in essa adorassero la prima bestia la cui piaga mortale era stata sanata e operava grandi segni fino a far scendere del fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini e seduceva quelli che abitavano sulla terra coi segni che le era dato di fare in presenza della bestia dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine della bestia che aveva ricevuta la ferita della spada ed era tornata in vita e le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia onde l'immagine della bestia parlasse e facesse sì che tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia fossero uccisi e faceva sì che a tutti piccoli e grandi ricchi e poveri liberi e servi fossero fosse posto un marchio sulla mano destra o sulla fronte e che nessuno potesse comprare o vendere se non chi avesse il marchio cioè il nome della bestia o il numero del suo nome qui sta la sapienza che ha intendimento conti il numero della bestia poiché è il numero d'uomo e il suo numero è 666 quindi verrà a fianco della bestia principale che è l'anticristo anche un'altra persona si associerà riceverà una potenza anche questo riceverà una certa potestà un certo potere da parte del diavolo cosa gli sarà concesso a questo allora intanto l'obiettivo l'obiettivo che si porrà questo dice qui che farà in modo che gli abitanti della terra adorino adorino diciamo la prima bestia che è l'anticristo quindi il falso profeta cercherà in tutti i modi di sedurre tutti i popoli tutte le genti per farli adorare l'anticristo praticamente e qui dice come come li sedurrà c'è scritto operava grandi segni fino a far scendere fuoco dal cielo cioè questo falso profeta può operare potrà operare determinati segni capite però come abbiamo letto anche ai tempi ai tempi di di Mosè quando Mosè tirò fuori il popolo di Israele dall'Egitto quando Mosè faceva dei segni vi ricordate questo faceva dei segni da parte di Dio c'erano anche i magi che con le loro arti occulte facevano gli stessi segni quindi i primi segni che Mosè fece i magi di Egitto riuscirono a replicarli con le loro arti occulte qui pure sta scritto che il falso profeta farà segni e prodigi per ingannare quindi noi ci definiamo cristiani pentecostali noi crediamo nei segni e nei prodigi quelli di Dio noi crediamo che Dio oggi può far scendere può fare scendere fuoco dal cielo certo lo crediamo il Dio può fare quello che vuole però altresì dobbiamo sapere che quando verrà questo falso profeta quando ci sarà l'anticristo ci saranno dei segni e questo lo dobbiamo sapere perché noi credendo nei segni di Dio certo però dobbiamo sapere che ci sono anche i segni bugiardi cioè quei segni che non vengono da Dio che possono comunque manifestarsi come anche vi ricordate anche al capitolo 13 del Deuteronomio a proposito della della dell'apostasia nel libro del Deuteronomio al capitolo 13 che adesso andiamo a leggere lì già nella legge si faceva riferimento all'apostasia a segni e prodigi bugiardi che questi segni e prodigi bugiardi Dio poteva permettere di averarsi per mettere alla prova il suo popolo e per metterlo alla prova e se cadevano praticamente erano ingannati da questo da questi falsi profeti e erano ingannati e apostatavano da Dio apostatavano dalla fede quindi qui leggiamo al capitolo 13 del Deuteronomio che questo passo di Deuteronomio spiega cosa è l'apostasia derivante da falsi prodigi che i falsi profeti facevano capite da segni che comunque potevano anche avverarsi fatti da falsi profeti che ingannavano seducevano le persone li portavano ad apostatare che è esattamente quello che farà anche il falso profeta quando verrà insieme all'anticristo capite quindi nella legge vedete ci sono determinate cose che se la legge viene usata legittimamente sono molto utili per capire il momento in cui viviamo o le cose che dovranno avvenire o che in questo caso ci spiega cosa è l'apostasia quindi leggiamo al capitolo 13 del Deuteronomio quando sorgerà in mezzo a te un profeta o un sognatore che ti mostri un segno o un prodigio e il segno o il prodigio di cui ti avrà parlato succeda ed egli ti dica andiamo dietro a dei stranieri che tu non hai mai conosciuto e ad essi serviamo tu non darai retta alle parole di quel profeta o di quel sognatore perché l'Eterno il vostro Dio vi mette alla prova per sapere se amate l'Eterno il vostro Dio con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra seguirete l'Eterno l'Iddio vostro temerete Lui osserverete i Suoi comandamenti ubbidirete la Sua voce a Lui servirete e vi terrete stretti e quel profeta o quel sognatore sarà messo a morte perché avrà predicato l'apostasia dall'Eterno dal vostro Dio che vi attratti dal paese d'Egitto e vi arredenti dalla casa di schiavitù per spingerti fuori della via per la quale l'Eterno il tuo Dio ti ha ordinato di camminare così toglierai il male di mezzo a te quindi vedete già nella legge il Signore metteva in guardia da chi dai falsi profeti cosa facevano i falsi profeti facevano dei segni che potevano anche avverarsi e spingevano ora vedendo magari dei segni dei prodigi la gente dice eh ma questo è da Dio poi questo ti porta lontano dal Signore ti fa seguire qualcun altro adorare qualcun altro che non è l'Eterno che non è Dio ecco quindi che tu se tu cadi in questa trappola allora stai appostatando dall'Eterno stai appostatando stai rinnegando Cristo praticamente stai rinnegando il Dio perché Dio permette questo lo permetteva lo ha permesso nei secoli che ci fossero anche dei falsi profeti che facessero determinati segni per qui lo dice Dio stesso io sono sono il vostro Dio che vi mette alla prova capite per sapere se amate l'Eterno il vostro Dio con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra quindi il Signore vuole da noi qual è il più grande comandamento che noi dobbiamo amare il Dio con tutta la nostra mente con tutte le nostre forze con tutto il nostro corpo in tutto con tutto quello che noi siamo dobbiamo amare l'Eterno dobbiamo amare il Dio quindi dobbiamo seguire solo Lui se seguiamo un altro solo perché ha fatto un segno o un prodigio vero o bugiardo che sia siamo diciamo siamo sedotti da questo falso profeta da questo sognatore siamo sedotti e rischiamo di appostatare appostatiamo rinneghiamo l'Eterno perché ci mettiamo a seguire un'altra via che non è la via che Dio ci ha detto di seguire quindi Dio permette che ci possano essere dei falsi profeti questo può accadere ancora oggi e anche se non è il tempo in cui si manifesta l'anticristo i falsi profeti ci possono essere ancora oggi e quindi ci dobbiamo guardare da questi però in modo particolare questo falso profeta vedete quindi è confermato comunque dalle scritture che è possibile che un profeta un falso profeta perché non è un profeta da Dio che faccia dei segni dei prodigi come abbiamo letto in Apocalisse al capitolo 13 faccia dei segni e molti rimangano ingannati rimangano ingannati e siano sedotti e si mettano a seguire e adorare la bestia l'anticristo abbandonando abbandonando magari il Signore ad esempio tutti i non credenti che non sono scritti nel libro della vita questi lo adoreranno perché perché non sono credenti non sanno niente non sono cristiani non sono servi di Dio e quindi adoreranno tutti quelli del mondo vedranno segni prodigi fuoco che scende dal cielo addirittura dice anche e adoreranno e vedranno cose strane e adoreranno la bestia capite cos'altro farà la bestia quindi farà scendere fuoco dal cielo in presenza degli uomini vedete poi gli abitanti della terra con i suoi segni gli verrà detto poi cosa farà il falso profeta farà costruire delle immagini delle immagini dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine della bestia e davanti a quella a quell'immagine avrebbero dovuto adorare quindi avrebbero adorato l'anticristo praticamente avrebbero adorato Satana il nemico l'avversario cosa dice a riguardo di questa immagine la scrittura cosa ci fa sapere ci fa sapere che a questa immagine sarà concesso di avere uno spirito onde l'immagine della bestia parlasse capite quindi il Dio cosa permetterà cosa diciamo noi oggi di solito quando parliamo delle statue hanno occhi e non vedono hanno orecchie e non sentono hanno bocca e non parlano questa statua invece che caratteristiche avrà avrà questa caratteristica che come sta scritto che onde l'immagine della bestia parlasse capite quindi questa questa immagine della bestia parlerà quindi ci sarà il falso profeta che farà segni prodigi farà scendere anche fuoco dal cielo per ingannare per ingannare poi questa questa statua parlerà e quindi noi lo sappiamo quindi noi non adoriamo le statue non ci dobbiamo mettere ad adorare sappiamo che è vietato per noi adorare le statue anche se le statue parlano capite anche se ci troviamo un giorno ci trovassimo davanti a una statua che parla va bene e noi non dobbiamo adorare quella statua anche se non è una statua come lo sono quelle classiche che noi abbiamo sempre conosciuto di cui leggiamo abbiamo sempre letto anche nei salmi che hanno bocca e non parlano è vero le statue normalmente hanno bocca e non parlano in questo caso invece quando riguarderà quando verrà il falso profeta l'anticristo sarà costruita un'immagine che riguarderà l'anticristo e quell'immagine gli sarà dato di parlare ma noi non ci dobbiamo far ingannare lo stesso i santi i credenti quelli che hanno ben ferma la conoscenza ben ferma nella loro cuore nella loro mente la conoscenza di questi passi della scrittura non si devono far ingannare capite ecco perché la conoscenza è scritto anche nei profeti che il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza se i credenti non sanno che verrà il falso profeta che farà costruire un'immagine a cui gli sarà dato di parlare e molti magari possono dire ma le statue quelle false non parlano capite e mentre questa qui se parla vuol dire che è una statua che ha voluto il Dio e quindi la possiamo adorare capite e quindi cadono in peccato adorano la statua e perdono la loro salvezza cioè rinnegano il Dio per che cosa per la loro ignoranza quindi io voglio che queste cose voi ve le sappiate forse le sapete già ma io ve le ricordo ve le voglio ricordare le dovete tenere a mente perché anche se non vi servono per un momento attuale adesso vi serviranno quando verranno i momenti quando verrà il momento che si verificheranno queste cose bisogna ricordarsele queste cose e perché no anche parlare con gli altri e trasmetterle per vedere se gli altri lo sanno se non lo sanno gli viene detto vai a leggere la leggi questo ricordatelo soprattutto nei momenti in cui vediamo che si avvereranno certe cose quando si avvereranno certe cose noi dobbiamo ricordarle di più queste cose capite perché dobbiamo mettere in guardia più persone possibili cos'altro farà questa la seconda bestia cioè il falso profeta naturalmente anche qui chi non adorerà questa statua dice saranno messi a morte e chi saranno quelli che saranno messi a morte tra questi io non so se soltanto ma tra questi ci saranno sicuramente anche i credenti perché i credenti non si metteranno ad adorare questa statua e quindi saranno messi a morte vedete conferme ancora che la chiesa in quel periodo sarà perseguitata e anche questo dobbiamo sapere perché dobbiamo sapere a cosa andiamo incontro finché possiamo scappare nasconderci si può cercare di farlo però sappi che non tutti riusciranno a scappare perché la parola è scritta qua quindi quelli che saranno presi gli sarà chiesto di adorare quella statua e se l'adoreranno rinegheranno Cristo se non l'adorano saranno messi a morte e questo bisogna comunque saperlo e ricordarlo poi cos'altro dice la parola di questo falso profeta ah ecco un'altra cosa molto importante qui dice che sarà messo a tutti il marchio della bestia il marchio della bestia dove sarà messo sarà messo sulla mano destra noi ci atteniamo strettamente a quello che è scritto io non credo né nel microchip né ai codici particolari che dicono che ci sarà che verranno messi nelle mani allora qui la scrittura dice che ci sarà innanzitutto sarà un marchio quindi è un marchio una sorta di scritta un qualche cosa che come lo spiega al versetto 18 un marchio che verrà posto o sulla mano destra o sulla fronte o mano destra o fronte capite o l'uno o l'altro ci sarà scritto un riferimento che qui dice chi ha intendimento ma se l'intendimento ce l'ha colui a cui Dio dà intendimento capite cioè non è che uno intende perché è intelligente lui in questo caso uno intende se Dio gli dà intendimento quindi non c'è motivo e magari adesso non c'è il motivo necessario per capire cosa sarà quel quel marchio della bestia cosa sarà esattamente quando verrà il momento e Dio darà intendimento a chi deve dare intendimento quindi per adesso non dobbiamo soffermarci al microchip o altri elementi noi dobbiamo sapere che il marchio verrà messo nella nella mano destra e o quella parola o vuol dire che o l'uno o l'altro cioè escludendo se si mette nella mano destra si esclude la fronte se si mette nella fronte esclude la mano destra no però noi dobbiamo evitare di farci smettere da qualsiasi né in fronte né nella mano destra e questo questo marchio che ci metteranno avrà a che fare con 666 cosa sia cosa quale nome che cosa sia esattamente non non lo so dire non lo so non ho ricevuto intendimento in questo fino ad oggi quindi in futuro non lo so ma fino ad oggi non so non so cosa dirvi se se io ne avesse intendimento ve lo farei sapere ma siccome non ce l'ho non ve lo posso far sapere però stiamo attenti perché non dobbiamo prendere nessun marchio né nella mano destra né né in fronte un'altra caratteristica importante che ci dice la scrittura che cosa avverrà in quel periodo è questo al versetto 17 che dice che nessuno potesse comprare o vendere se non chi avesse il marchio e si può capire perché i cristiani cosa succede succede che non si scapperanno non si vorranno mettere il marchio nella bestia nella mano destra e nella fronte però per complicare diciamo la bestia l'anticristo è il falso profeta per complicare la vita per far vivere una vita diciamo più difficile alla chiesa per scovarli praticamente dice qui che non puoi comprare non puoi vendere se non hai il marchio della bestia non puoi comprare e non puoi vendere quindi se tu facciamo un esempio se tu hai una casa hai comprato una casa devi scappare c'è già il marchio della bestia non la puoi vendere non puoi comprare non puoi vendere quindi hai perso i tuoi soldi oppure ti fai mettere il marchio della bestia capite quindi vedete questo adesso applichiamolo ai locali di culto come faranno poi i credenti a vendere il locale di culto quando verranno questi momenti difficili se potranno solo vendere se hanno il marchio della bestia nella mano destra o nella fronte invece se sono in affitto se le persone saranno in affitto in quel periodo non hanno problema di comprare e vendere almeno la casa avranno magari problema di comprare e vendere il cibo perché quello che interesserà nei momenti difficili è procurarsi i vestiti e procurarsi e procurarsi il cibo capite questo questo sarà importante in quei momenti difficili e queste sono le cose che avverranno diciamo con la venuta dell'anticristo e della e della bestia una cosa importante da considerare ai tempi dell'anticristo c'è anche questo al capitolo 11 di apocalisse c'è la spiegazione ci dice il signore ci fa sapere che non solo dovranno venire l'anticristo e il falso profeta ma dovranno venire anche i due testimoni i due testimoni due testimoni che sono due unti che sono attualmente adesso davanti al signore sono di carne e ossa cioè sono sono uomini che sono stati rapiti dalla terra uno di questi è Elia e l'altro è Enoch perché la scrittura presenta che i due uomini che sono stati presi dalla terra senza vedere la morte praticamente sono Elia ed Enoch sono in attesa cosa ci fanno là su in cielo perché sono là senza essere morti sono in gloria no non sono in gloria sono in attesa nei cieli il Dio se li è custoditi in attesa di essere mandati per questa missione che sta scritta al capitolo 11 di Apocalisse i due testimoni che dovranno profetizzare anche questi dovranno profetizzare per tre anni e mezzo questi due testimoni si andranno a scontrare con l'anticristo cosa succederà cosa succederà questo lo leggiamo al versetto io adesso ho soltanto accennato ai due testimoni perché stiamo parlando dell'anticristo e leggiamo la fine che fanno i due testimoni e quando parlando dei due testimoni allora va bene leggiamo anche cosa faranno i due testimoni dal versetto 4 leggiamo questi Apocalisse 11 4 questi sono i due olivi e i due candelabri che stanno nel cospetto del Signor della Terra e se alcuno li vuole offendere esce dalla loro bocca un fuoco che divora i loro nemici e se alcuno li vuole offendere bisogna che sia ucciso in questa maniera essi hanno il potere di chiudere il cielo onde non cada pioggia durante i giorni della loro profezia e hanno potestà sulle acque di convertirle in sangue potestà di percuotere la terra di qualunque piaga quante volte vorranno e quando avranno compiuta la loro testimonianza la bestia che sale dall'abisso muoverà loro guerra e li vincerà e li ucciderà e i loro corpi morti giaceranno sulla piazza della gran città che spiritualmente si chiama Sodoma ed Egitto dove anche il signor loro è stato crocifisso e gli uomini dei vari popoli e tribù e lingue e nazioni vedranno i loro corpi morti per tre giorni e mezzo e non lasceranno che i loro corpi morti siano posti in un sepolcro e gli abitanti della terra si rallegreranno di loro e faranno festa e si manderanno regali gli uni agli altri perché questi due profeti avranno tormentati gli abitanti della terra e in capo ai tre giorni e mezzo uno spirito di vita procedente da Dio entrò in loro ed essi si drizzarono in pie e grande spavento cadde su quelli che li videro ed essi udirono una gran voce dal cielo che diceva loro salite qua ed essi salirono al cielo nella nuvola e i loro nemici li videro e questo è che accadrà quindi verranno questi due profetti questi due profetti gli sarà dato loro di fare determinati segni prodigi miracoli anche loro di profetizzare profetizzeranno per tre anni e mezzo anche loro però di loro di questi due testimoni che avranno un incarico particolare datogli da Dio cosa succederà finito il loro tempo come Dio ha stabilito finito il loro tempo tre anni e mezzo c'è scritto al versetto 7 quando avranno compiuta la loro testimonianza la bestia che sale dall'abisso muoverà la loro guerra e li vincerà e li ucciderà vedete il Dio permette che anche questi due testimoni che lui avrà mandato a profetizzare anche questi due testimoni muoiano l'anticristo quindi li ucciderà vedete perché li ucciderà perché l'anticristo è più forte di Dio no li ucciderà perché così Dio ha stabilito capite infatti non li potrà uccidere prima del tempo che Dio ha stabilito non li potrà uccidere diciamo non dopo tre anni e mezzo ma dopo il primo anno no non lo potrà fare perché tutto avverrà esattamente come Dio ha stabilito nella sua parola ecco perché noi dobbiamo imparare cosa c'è nella parola dobbiamo ricordarci quello che c'è scritto nella parola perché se noi ci ricordiamo quello che c'è scritto nella parola siamo protetti contro il male cioè riusciamo a discernere il bene dal male riusciamo a capire quando una cosa è da Dio oppure no capite tra la preghiera e la conoscenza della parola riusciamo a riconoscere tutte le cose possibili che ci possono fare del bene e quelle che ci possono fare del male e naturalmente quelle che ci danneggiano spiritualmente le dobbiamo rigettare no fuggire dalle cose malvagie e attenerci alle cose buone e giuste quindi se noi ci troveremo ai tempi dei due testimoni e dobbiamo e dobbiamo ricordarceli questi passaggi biblici perché il Signore non ci ha lasciato è vero che alcune cose sono difficili da capire e non riusciamo magari a collegarle non riusciamo a determinare i tempi e il nome non riusciamo a determinarlo ma alcune cose si capiscono chiaramente io di quelle oggi ho voluto parlare delle cose che si capiscono chiaramente di quelle che sono più chiare quindi queste cose che sono chiare bisogna che ce le ricordiamo perché già sono sufficienti per riuscire a capire quando queste cose stanno per avvenire stanno avvenendo e così noi ci guardiamo e stiamo attenti capite e possiamo dire che si stanno avverando queste cose che sono scritte nella parola dobbiamo partire però sempre dalla parola su tutte le cose sempre la parola la massima autorità e la parola quello che è scritto noi ci atteniamo strettamente a quello a quello che è scritto è questo che c'è scritto è quello che a noi ci fa del bene non ci fa del male ci dà anche quella conoscenza certo ci dice chiaramente cioè non ce lo dice diciamo di nascosto ce lo dice chiaramente c'è scritto chiaramente che all'anticristo sarà dato di fare guerra ai santi e di vincerli questo vuol dire che ne moriranno molti non lo nasconde la parola capite la parola è franca la parola ti parla chiaramente quello che avverrà te lo dice chiaramente non te lo nasconde poi alcune cose ci vuole un intendimento da parte di Dio per capirlo vabbè quelle le lasciamo aspettiamo preghiamo il Dio per le altre quelle cose che si capiscono e quelle le dobbiamo ricordare e citare anche ora vediamo abbiamo visto diciamo il potere della bestia e dell'anticristo va bene del falso profeta dell'anticristo però adesso vediamo che fine fanno e noi la storia ha un termine per questi due soggetti malvagi capite ha anche un termine e arriviamo anche a quello adesso adesso andiamo al capitolo 19 di Apocalisse e leggiamo dal versetto 11 leggiamo poi vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace ed egli giudica e guerreggia con giustizia e i suoi occhi erano una fiamma di fuoco e sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino bianco e puro e dalla bocca gli usciva una spada affilata per percuotere con essa le nazioni ed egli le reggerà con una verga di ferro e calcherà il tino del vino dell'ardente ira dell'onnipotente dell'onnipotente Iddio e sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome re dei re signor dei signori poi vidi un angelo che stava in pie nel sole ed egli gridò con gran voce dicendo a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo venite adunatevi per il gran convito di Dio per mangiare carni di re e carni di capitani e carni di prodi e carni di cavalli e di cavalieri e carni di ogni sorta d'uomini liberi e schiavi piccoli e grandi e vidi la bestia e il re della terra e i loro eserciti radunati per muovere guerra a colui che cavalcava il cavallo e all'esercito suo e la bestia fu presa e colui fu preso il falso profeta che aveva fatto i miracoli davanti a lei coi quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine ambedue furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo e il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo e tutti gli uccelli si satollarano delle loro carni vedete questa è la fine che faranno la bestia e il falso profeta l'anticristo farà questa fine cioè i due uomini uno è l'anticristo e l'altro è il falso profeta al ritorno del signore al ritorno del signore saranno presi vivi e gettati vivi nello stagno di fuoco e di zolfo avranno sedotto avranno ucciso hanno fatto tutto il male che faranno faranno tanto male anche alla chiesa ma alla fine la fine delle cose come stanno la fine è questa cioè i santi anche se vengono uccisi nella carne entreranno nel paradiso di dio l'anticristo e il falso profeta invece quando ritornerà il signore saranno gettati vivi nello stagno di fuoco e di zolfo questa è la fine ultima di queste due persone per quanto malvagie potenti saranno governeranno il mondo inganneranno tante persone è vero ma alla fine loro qual è? la loro fine sarà quella di essere gettati vivi nello stagno di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati giorno e notte badate bene per l'eternità invece la fine di coloro che è vero avranno sacrificato la loro vita dei santi dei santi che sacrificano la loro vita che non rinnegheranno il nome del signore Gesù Cristo non adoreranno l'immagine fatta dal falso profeta l'immagine dell'anticristo per essere adorata non non metteranno nella loro mano non faranno mettere nella loro mano destra il marchio o sulla fronte non si faranno mettere nessun marchio però il prezzo da pagare quale sarà? il prezzo da pagare è quello che possono morire possono essere perseguitati e possono morire dei santi ne moriranno tanti questi che moriranno per il nome del nostro signore Gesù Cristo entreranno nel regno dei cieli nel paradiso di Dio quindi vedete la fine cioè nel momento in cui noi vediamo che l'anticristo perseguita la chiesa li mette a morte sembra che l'anticristo abbia la vittoria ma non è così perché la fine qual è? che il credente in quella maniera sale al signore va a casa se ne va a casa l'anticristo non ottiene nessuna vittoria sulla chiesa è solo un odio che manifesta un odio un'ostilità contro la chiesa contro i santi ma non ottiene nessuna vittoria capite? cosa succederà alla fine quando ritorna il signore il signore nostro Gesù Cristo quando ritornerà succederà che la bestia l'anticristo e il falso profeta saranno gettati tutte e due nello stagno di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati giorni e notti per l'eternità e che non è poco essendo degli uomini perché sono degli uomini in quel luogo poi sarà gettato anche Satana e tutti i suoi angeli dove saranno tutti tormentati quindi vedete la sofferenza la sofferenza che passiamo qui su questa terra non ha nulla a che vedere con la gloria che noi vivremo quando saremo lassù nei cieli qui dobbiamo passare la sofferenza saremo perseguitati maltrattati non ci considereranno saremo disprezzati ma ci aspetta una vita eterna piena di gloria e di pace e di gioia a quello dobbiamo guardare i sacrifici che facciamo qui non ci devono condizionare noi dobbiamo rimanere concentrati sulla vita eterna che Dio ci darà e ha preparato per noi e non dobbiamo prendere nessun marchio né adorare statue né servire l'anticristo né nessuno e non farci sedurre da nessuno né dai falsi profetti che ci sono oggi né da da nessun segno prodigio e bugiardo capite non dobbiamo farci sedurre da nessuno questo il Signore ci ha messo in guardia su questo e dobbiamo stare attenti bisogna stare attenti concentrati come fai a come come facciamo a stare attenti su queste cose pregando il Dio del continuo e studiando le Sacre Scritture ecco come si vedono come si aprono gli occhi cosa vediamo le cose le vediamo se noi se Dio ci apre gli occhi e vediamo le cose come realmente sono questi occhi si aprono solamente gli occhi della verità siccome alcuni di voi molti di voi se non tutti noi anch'io Dio ci ha prima salvati poi siamo andati un po' la vista offuscata in mezzo alle religioni in mezzo alle denominazioni un po' poi Dio ci apre gli occhi e vediamo le cose come stanno e dobbiamo ringraziare Dio perché se hai aperto gli occhi devi ringraziare Dio altrimenti se Dio non ti apre gli occhi tu sarai tra quelli che adoreranno immediatamente l'immagine della bestia capite e andrai a finire all'inferno andrai a finire nello stagno di fuoco alla fine quindi la sofferenza ti disprezzano i fratelli ti disprezzano queste denominazioni ti disprezzano quelli che hanno tanti locali di culto che sono numerosi ti disprezzano va bene ma attenzione io mi attengo a quello che sta scritto voi cosa state facendo di tanto meglio di noi questo devono spiegare non quanti sono e quanti locali hanno devono spiegare come si attengono e come vivono la loro vita spiritualmente mediante e come vivono l'osservanza della parola volevo concludere citando citandovi le parole del profeta Daniele due passi perché abbiamo letto diverse cose però non abbiamo spiegato tutto è importante anche capire anche questo perché non abbiamo intendimento di tutto perché non ho spiegato tutto perché non abbiamo noi intendimento su tutto il profeta Daniele riceveva rivelazioni da Dio va bene visioni sogni alcune cose gli venivano spiegate e altre no e in Daniele al capitolo 12 al versetto 8 dal versetto 8 leggiamo dopo che Daniele ebbe visto determinate visioni che voleva capire no allora sta scritto questo e io e io udì ma non compresi e dissi signor mio qual sarà la fine di queste cose ed egli rispose va Daniele poiché queste parole sono nascoste e sigillate sino al tempo della fine capite allo stesso profeta Daniele che aveva ricevuto tanta sapienza e intelligenza da Dio per rivelare tanti segreti nascosti di Dio gli sono state dette queste parole cioè va Daniele doveva andare cioè Daniele voleva sapere e come anche noi vogliamo sapere tutto delle sacri scritture ogni minima parola ne vogliamo capire il significato però cosa comprendiamo da questo passaggio che vedete come come Dio ha risposto ha voluto che si rispondesse a Daniele gli ha detto va Daniele poiché queste parole quelle che lui voleva sapere sono nascoste sigillate sino al tempo della fine quindi lui non non gli era dato a lui di intenderle è per questo fratelli e sorelle che a noi non ci è dato di capire tutto non ci è dato non comprendiamo tutto come Daniele e quindi vedete non siamo né più né meno del profeta Daniele e Dio ci ha dato intendimento per capire determinate cose ma non di capirne altre perché quelle saranno rivelate da Dio al momento che lui ha stabilito capite qui non dobbiamo preoccuparci delle cose che Dio non ci ha rivelato cioè non dobbiamo essere di quelli che insistono sulle cose che sono nascoste perché vogliono far vedere che noi che noi le conosciamo a differenza di altri no perché se le cose sono nascoste verranno rivelate da Dio al momento opportuno alle persone che lui vuole quindi faremo un lavoro cercheremo di fare un determinato lavoro che non porta nulla capite quindi noi concentriamoci sulle cose che si capiscono chiaramente perché già sono sufficienti per noi oggi capite le cose che sono rivelate noi ci dobbiamo concentrare sulle cose chiare e rivelate da Dio poi le cose che non sono rivelate chiaramente se Dio ce le vuole rivelare gloria a Dio ringraziamo Dio ma se non ce le rivela noi ci dobbiamo stare concentrati sulle cose rivelate non per forza stare sempre lì a parlare a studiare a cercare in tutti i posti di capire le cose che sono nascoste se Dio le ha sigillate le ha sigillate come l'ha detto Daniele e lo dice anche a noi oggi ci sono delle cose che per noi oggi sono sigillate e verranno rivelate solo in determinati momenti e a determinate persone capite quindi questo per spiegarvi perché non abbiamo intendimento di tutte le scritture di tutti gli avvenimenti futuri che devono avvenire qualcosa ci sfugge qualcosa ci sfugge però non ci deve sfuggire quello che Dio ha rivelato quindi bisogna bisogna considerare queste cose ora voglio terminare con un ultimo passaggio in prima Tessalonicesi guardate cosa diceva l'Apostolo Paolo nell'ultimo capitolo capitolo 5 prima Tessalonicesi capitolo 5 11 versetto 11 perciò dopo naturalmente qui parlava sempre dei tempi futuri parlo nel capitolo 5 e anche prima Paolo nella sua epistola parla della risurrezione dei morti quindi è sempre nell'argomento di cose che devono avvenire in futuro va bene ora in mezzo a queste cose che Paolo poi ha detto guardate di queste cose che riguardano comunque il futuro in merito a tali cose Paolo dice queste parole perciò consolatevi gli uni gli altri ed edificatevi l'un l'altro come d'altronde già fatte cioè considerate che va bene va bene studiare va benissimo studiare le cose che devono avvenire va bene cercare di capire anche le cose che sono nascoste va bene non va male però attenzione in attesa che queste vengano in attesa che tutto avvenga Paolo esorta e con queste parole di Paolo io voglio esortare anche tutti voi dedichiamoci a questo in attesa che tutte le cose si verifichi noi dobbiamo vivere la nostra vita ogni giorno facendo queste cose in mezzo alla chiesa facendo questo di consolarci gli uni gli altri di edificarci gli uni gli altri di fortificarci gli uni gli altri come abbiamo fatto prima continuiamo a farlo capite anche se qualche volta pensiamo studiamo e argomentiamo le cose che devono avvenire ma noi giornalmente dobbiamo vivere la nostra vita spiritualmente ogni giorno come la dobbiamo vivere consolandoci edificandoci ammaestrandoci avendo comunione gli uni con gli altri è così che si arriva tutti insieme alla fine quando verranno le cose non dobbiamo né spaventarci né concentrarci troppo sulle cose che verranno dobbiamo concentrarci al giorno che dobbiamo vivere non dobbiamo caricarci di pesi oggi che devono venire ai tempi della persecuzione dell'anticristo per dire mi spavento oggi di quello che succederà quando viene l'anticristo non mi posso caricare oggi di pesi che riguardano il futuro quando quel futuro si avvererà e diventerà presente e ci sarò anch'io ci saremo anche noi allora ci preoccuperemo ma oggi dobbiamo preoccuparci di questo ogni giorno dobbiamo edificarci consolarci a vicenda studiando le cose che sono rivelate parlandoci con salmi inni e cantici spirituali edificandoci a vicenda badando alle cose che sono rivelate e non a quelle che sono sigillate e nascoste e questo era fratelli e sorelle il messaggio che volevo trasmettervi a riguardo dell'anticristo a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amén grazie